Fuori! 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 mi dici a dimmi cosa posso e non posso fare la tribuna della politica ancora? ma cosa mi fanno? vive la voglia del diritto sulla paglia mi dico qua verso le ripresa mi dico il consenso mi dico il consenso mi dico la tua paglia fate fuori mi dico la paglia mi dico il consenso mi dico la paglia dovrete iniziare io voi e lo farò non ci sarebbe anche poco non ci sarebbe mettere io un po' le mani prossime ma io voglio sapere che il popolo è il nostro che gli spagano con le tazze Anche voi che sono una roba, io faccio un po' di scopera. Ma nessuno che mi sono una roba, il caso si è collocato, facciamo un dipendio. Andate qui fuori. Fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fu Grazie a tutti.